L'idea di una ricerca sui clienti italiani nasce da Londra sostanzialmente dove abbiamo la nostra sede principale come MG. Da tempo noi abbiamo già in Inghilterra un client council in cui facciamo arrivare in ufficio a Londra clienti finali presi letteralmente dalla strada e li intervistiamo su quali sono le loro esigenze finanziarie di investimento. Questo è ancora più importante in ottica di MIFID II in cui l'industria verrà richiesta di avere proprio un target market di riferimento, quindi sapere esattamente che cosa l'investitore richiede, quali sono le sue aspettative, quali sono le sue esigenze di investimento e quindi come product governance dobbiamo portarci avanti e sapere in anticipo conoscere quanto più possibile queste esigenze per disegnare i prodotti che meglio possano coniugare le esigenze con i rischi, le aspettative e i possibili ritorni dei fondi di investimento da questo punto di vista. Certamente quello che emerge dalla ricerca è che la diversificazione degli italiani è ancora piuttosto bassa con circa il 70% degli intervistati che riferisce di investire ancora soltanto in Italia. Questo è quello che chiameremmo con un termine inglese home bias, quindi forte attenzione sul mercato locale, sui titoli che conosco meglio perché sono a me più vicini, perché sono in Italia. Sicuramente ci possono essere delle occasioni da questo punto di vista, delle opportunità interessanti anche in ottica pensionistica, pensiamo al possibile lancio dei nuovi PIR da qui a qualche mese, ma certamente emergono anche dei numeri un po' preoccupanti, per esempio soltanto il 22% riferisce di investire con una diversificazione a livello veramente globale e addirittura ancora più preoccupante il 19% riferisce di non sapere neanche dove ha investito. Su questo certamente come industria, come assogestioni possiamo e dovremmo probabilmente lavorare di più, proprio per consentire agli italiani di disporre di un portafoglio di attività finanziarie molto più diversificato alla ricerca anche di asset che siano decorrelati tra di loro, per cui ad esempio se i tassi di interesse salissero ci possa essere una qualche forma di protezione al rialzo dei tassi di interesse o comunque cercare attività che siano tra loro decorrelate da questo punto di vista, proprio per aiutare gli italiani ad avere portafogli più diversificati. Da questo punto di vista il fondo di investimento è certamente lo strumento chiave, lo strumento principe che già consente di per sé un'ottima diversificazione sia geografica, sia valutaria, sia delle diverse asset class e su questo c'è ancora probabilmente tanto da fare. Il dato sicuramente interessante, un po' nuovo, mi permetto di dire è il 39% che si rende conto che la priorità assoluta in termini finanziari è costruire qualcosa per la pensione, per la previdenza. Questo è un dato sicuramente importante, fa vedere che probabilmente incomincia a esserci una certa percezione nell'investitore italiano che ci sarà un gap previdenziale. Per rispondere a questo gap mi verrebbe da fare una battuta dicendo che non è mai troppo tardi, non è mai troppo presto investire per la pensione. Non è mai troppo tardi perché anche una persona che va in pensione oggi, diciamo tra 65 e 70 anni in Italia, ha un'aspettativa di vita almeno per i prossimi 15-20 anni mediamente. Quindi non è mai troppo tardi, anche a 65 anni si può incominciare a investire di nuovo per la pensione con un orizzonte che non è corto. Può essere anche interessante investire perfino in azioni per una persona che va in pensione oggi. Certo non è mai troppo presto perché anche il 18enne che riesce a mettere da parte pochi spiccioli con un semplice piano d'accumulo già ben noto può incominciare a mettere da parte anche in giovane età, anche appunto 18, 20, 25 anni, per incominciare a costruirsi uno zainetto che poi con il principio dell'accumulazione potrà diventare sempre più grande. Molto spesso nell'industria la regolamentazione e la nuova normativa vengono intesi come dei lacci e dei pesi. In realtà con MIFID 2, con tutto quello che riguarda la product governance, quindi il governo dei prodotti, il mercato di riferimento, il target market, abbiamo una grandissima occasione come industria a provare a ribaltare quelle che sono le percentuali che escono da questo sondaggio condotto da GFK Eurisco, nella misura in cui soltanto il 33% degli intervistati riferisce di investire già in fondi di investimento, contro un 67% che investe in singoli titoli, azioni e obbligazioni. Probabilmente come industria possiamo appunto ribaltare queste percentuali e cercare di puntare nei prossimi anni al lancio di prodotti che consentano, anziché prendersi dei rischi su singole azioni, singoli titoli, di investire molto di più nei fondi di investimento come strumento principe per la diversificazione sia geografica che valutaria che anche per asset class. Quindi se questo 33% diventasse 67% e viceversa soltanto una parte minoritaria degli investitori investisse in singoli titoli, probabilmente avremmo già fatto un buon servizio per il Paese alla ricerca di una minor concentrazione e una maggior diversificazione del rischio.